Mike, nuova avventura in Italia, in una piazza nuova, ma in un campionato che ben conosci? Penso che è molto importante che ho spiegato in Lega Due prima, per molti anni, quindi so cosa aspettare, e il mio lavoro è di share l'esperienza con gli altri giocatori. Cosa ti ha spinto a scegliere questa piazza, visto che hai avuto modo di provarne diverse, ognuna con la propria caratteristica e il proprio prestigio? Sei in una piccola città, ma col tifo molto caldo, cosa dici ai tuoi nuovi supporter? Sì, c'era quattro. Ha bisogno di stare sul campo un po' di più, ha bisogno di provare alcune esperienze a un livello più elevato, però comunque il mio obiettivo è essere pronto per la prima partita di campionato.